Bene, siamo al buio, siamo al buio nonostante che noi siamo primi in classifica, voi adesso direte ma cosa c'è di male a pareggiare con il Verona? Ve lo dico io, noi siamo sempre a pari punti con il Milan, che ormai le partite le sta tutte quanto vincendo di culo. Allora, con l'Inter che ha sempre faticato a vincere e ha sempre avuto difficoltà a vincere, noi abbiamo avuto l'occasione, ci è capitato il Verona, il Verona è nato soltanto per rompere i coglioni a noi, cioè all'Udinese, Cagliari, non gliene frega proprio niente di vincere, non gliene frega proprio niente di vincere e di rompere le scadone, rompere le scadone a noi. Io veramente non lo so, che dire, gol di Simeone, sempre Simeone, che manco la PlayStation ha fatto 9 gol in 12 partite, però, vabbè, ha già un talento Simeone, però col Verona non lo sarei mai aspettato sinceramente. Con Verona, vabbè, sì, veniva dalla vittoria con la Juve e dal pareggio dell'Udinese, il 4-1 con la Lazio, cioè il 3-2 col Milan, sculatissima con la partita, la Verona-Milan 3-2, Milan-Verona 3-2. Insomma, il Verona che il punto debole ce l'ha, la difesa, però oggi è stata molto attenta, visto che con noi sempre giocano, scusate, sempre in difesa, sempre chiusi con i nostri avversari, sempre, sempre, sempre. Non ce ne approfittiamo mai. Ma l'ho giocato benissimo, per carità, tutti, eccetto Politano e Zelinski, veramente i peggiori in campo in assoluto. Vabbè, andrò a fatto una partita pessissima, veramente. E in difesa, bravo Juan Jesus, devo dire. Mario Rui forse è quello che non... quello il peggiore della difesa, secondo me. Perché, cioè, lui era l'autore del... che ha fatto fare l'assist a Barak, insomma, facendosi superare. Pure Anguissager, in quelle circostanze, però, non è andato ad aiutarlo. Lo mette in mezzo per Simeone, che... vabbè, lì Juan Jesus non ha... anzi, Rachmani, che non ha nessuna colpa. E il Verona è in vantaggio. Poi, per quanto riguarda, vabbè, il gol del Napoli, con Di Lorenzo non mi metto a cantare Di Lorenzo bla 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 bla... E va, no. No. Non sono felice del risultato, però... L'unica cosa per cui sono felice è soltanto un buon... un buon punto. E la buona prestazione che ha dato il Napoli oggi. Osiman, uno dei migliori in assoluto, secondo me. E... Forse se c'era Koulibaly, forse il Verona non segnava, secondo me. Non sarebbe mai nato il gol... Il gol del Verona con Koulibaly, che poi... vabbè, ahimè, è squalificato, quindi... Forse l'avremmo vinta questa partita stradominata. Vero che il Verona ha avuto le occasioni, però la sprecate male. Il migliori del Verona, vabbè, Montipò. Montipò non solo fa... Cioè, diventa un super saiyan con... Con la Juve, diventa un super saiyan anche con noi. È incredibile Montipò, è veramente incredibile. Cioè... Non lo so, non lo so, non lo so. Ha parato... Vabbè, il tiro di Mert... Vabbè, anche se però... Vabbè, ha parato quello di insignia, la punizione. Quello di Mert inserì era il palo. No, no, questo era dentro. E poi il Verona che si è tutta chiusa dietro. Kalinic, veramente non lo sopporto. È veramente Kalinic, non lo sopporto. Veramente Kalinic neanche lo... Cioè, non lo sopporto e per poco non... Tra l'altro, parlando del gol del Verona, è nato ovviamente dal solito gufo del teleconista. Il Verona è la squadra che segna sempre nei primi... Nei primi minuti della partita. E ecco, ecco, com'è nato il gol da un gufo. Sempre dai gufi nascono il gol del Verona. Sempre. Sempre. Non è la prima volta il Verona segna i primi cinque... Sempre fatto i primi cinque minuti, i primi quindici minuti, i primi sei cinque minuti il gol. Ma chi li paga questi qua, veramente? Ma chi li paga? Poi l'arbitraggio scandaloso. Mancano due rigori. Si mancano due rigori che probabilmente non ne parleranno. Alcuni ne parleranno, alcuni no. E niente. Quello Siusyman è incredibile. Arbitraggio veramente scandaloso. Io non so da dove è uscito sto adibito. Scandaloso l'arbitraggio. Scandaloso. Scandaloso. Scandaloso l'arbitraggio, eh. Sia per i Napoli che per i Napoli. Scandaloso. Scandaloso. Io vi lascio. Che io non mi fa proprio di commentare. Noi meritavamo di vincere assolutamente. Però il Verona... È vero. È nato solo il Verona per scadrere a noi. È vero. Le occasioni le avevute. Però noi le abbiamo avute molte di più. Insigne. Che vabbè. Voglio parlare di Insigne. Che non ha preso bene la sostituzione. Anche per via del fatto del rinnovo. Però è scontento per la... Cioè... Cioè per la prestazione ok. Cioè ha giocato benissimo Insigne per me. Io ho sbagliato molti passaggi. Questa è l'unica pecca. Non lo so. Non lo so. Io adesso vedo il... Vedo il Milan con l'Inter. Ma sono sicuro che il Milan la vincerà a buco di culo. Veramente. Io vi lascio ragazzi. Purtroppo... Voi dite. Ma cosa c'è di male? Se poi il Milan disupere. Perché poi ragazzi... Cioè... Io spero sempre di vincere. Perché dal Milan non si sa... Non... Non... Non sai mai cosa ti aspetta. Cosa ti aspetta dal Milan? Cioè... Rigori. Partite a buco di culo. E... Difensori che prima erano delle pippe assurde. Ma adesso sono diventati Super Saiyan. Tipo ad esempio Kier. Avete visto Kier? Ovviamente io... Rimango senza parole. Io... Vi lascio. Questo era il mio sfogo personale. Nonostante il pareggio... Ok. Non abbiamo ancora perso una partita. Però noi dovevamo vincere. Perché... Ve l'ho detto. Dal Milan non si... Non sai mai cosa ti aspetta. Tutti citando dei favoriti per lo scudetto. Alcuni... Però non... Alcuni... Un 3% dice... Milan... E 97% dice Napoli con... Con la percentuale di vincere lo scudetto. Il Milan ne ha poche. Magari forse un 5%. Perché... Vero... Uscendo fuori dalla Champions League in modo veramente... Dignito... Cioè... Veramente non dignitoso. Il Milan ha una tradizione in Champions. E si va a buttare in quella maniera da ultimo in classifica. Concentrandosi soltanto nel campionato. Si concentreranno sul campionato. Giustamente. Ma andranno a fanculo alla Coppa Italia. E faranno come l'Inter l'anno scorso. Che vincerà contro nessuno. E qui Spalletti deve lavorarci. Cioè... Deve lavorarci. Assolutamente. Perché se il Milan fa così. Vince contro nessuno. Sempre partite buco di culo. Rigori. Bla 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 bla. Rigori. Non rigore. Non parti. E niente. Niente. Io... Io vi lascio. Ciao. Se siete nuovi al canale. Iscrivetevi. E cosa le pensate di questa partita. Iscrivetelo con un commento.